Circa 90.000 accessori per auto irregolari perché sprovvisti delle informazioni minime e delle avvertenze dirette al consumatore. Questa l'imponente mole di materiale sequestrato dalla Guardia di Finanza di Padova durante un controllo delle attività per il contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale. Nel merino dei controlli un grossista della zona industriale di Padova dove venivano commercializzati prodotti di provenienza cinese, prevalentemente loghi, stickers e ricambi vari utilizzati per modificare le caratteristiche esteriori delle autovetture sportive. Tutti i pezzi erano sprovvisti delle indicazioni sulle caratteristiche merceologiche e sull'eventuale presenza di materiali o sostanze potenzialmente dannosi per l'uomo, le cose o l'ambiente. Molti pezzi avevano solo indicazioni in cinese. Il grossista è stato segnalato alla Camera di Commercio di Padova e rischia una maxissanzione.